Ciao a tutti amici, come state? Benvenuti in estate! Eh sì, proprio come ci dice Mazzarioli, il suo mio fratello rincorre i dinosauri, per noi studenti, il nostro personalissimo sostizio d'estate è un secondo dopo l'ultima campanella, quindi essi siamo proprio in estate e per celebrarlo ho voluto essere a Porta Sant'Elpidio, in compagnia di un patchino, salvataggio, perché i libri salvano proprio! Ecco a voi il canto dell'estere dell'apparire di Cisnuteboom, ok, va bene, non si judico il libro dalla copertina, ma ammettetelo, questo formato è veramente meraviglioso! Questo bellissimo libro, molto corto ma veramente intenso di riflessioni, è una discussione metaforica e soprattutto filosofica sulla concezione stessa dell'essere e al tempo stesso sulla mutevolezza della realtà. Ve lo spiego meglio perché così è un po' complicato, ma davvero è un libro che tratta di tematiche importanti, filosofiche, anche con un po' di ironia. Questo libro è la sovrapposizione di due realtà, per la vera e propria una discussione tra lo scrittore, che non scrive da tempo, e alla stesura di un nuovo romanzo, con l'altro scrittore che gli dà dei suggerimenti, che però lo scrittore principale non seguirà, perché per lui narrare è una questione di cuore. E nell'altro capitolo ci sarà proprio il romanzo che lo scrittore sta scrivendo, quindi una storia ambientata nella Bulgaria del XIX secolo, una vicenda intricata tra un colonnello e un dottore, pensate un po'. Non mi dilungo troppo perché ci sono davvero tantissimi spunti per riflettere, ve ne leggo alcuni. Vincere non è niente, ragazzo mio. Vincere non lascia tracce, è una soddisfazione. Perdere è vivere. Un romanzo che ci spiega come lo narrare e lo scrivere sia metafora dell'esistente. Vi lascio un po' di tempo per riflettere, nel frattempo leggete il libro.